Il dottor Davide Bisogno vi aspetta in via Starza 27 a Cava dei Tirreni. Con l'approvazione di poche settimane fa da parte della Regione Campania del nuovo piano regionale per la rete dell'emergenza cerebrovascolare, rete Ictus, è stata ridefinita e rafforzata la rete regionale dello Stroke. Per l'ASL Salerno sono state riconosciute importanti novità che hanno tenuto conto dell'attività delle strutture ospedaliere operanti sul territorio e realmente attive e delle nuove tecnologie utilizzate per il trattamento e la cura della patologia vascolare acuta cerebrale. La rete Stroke è stata concepita allo scopo di consentire l'accesso di ogni paziente alla struttura ospedaliera territorialmente più vicina, ma attrezzata per il trattamento della patologia cerebrovascolare acuta nell'ambito del bacino d'utenza in cui il soccorso avviene, nel minor tempo possibile dall'esordio della patologia. Partendo da parametri standard quali i bacini d'utenza, i volumi di attività e gli esiti delle cure, la riprogrammazione regionale assegna nuovi ruoli specifici e modalità di integrazione secondo il modello dipartimentale ed intensità delle cure. Il nuovo piano regionale certifica quindi il riconoscimento del presidio ospedaliero Umberto I di Nocere Inferiore quale hub della rete e stroke unit di secondo livello per la malattia cerebrovascolare acuta. Altra importante novità definita dal piano stroke regionale è il riconoscimento della funzione del programma TeleStroke, messo da tempo in campo dalla ASL Salerno quale strumento di supporto alla rete che, utilizzando la telemedicina, può consentire, soprattutto in zone geograficamente distanti dai punti di erogazione della rete e in zone disagiate, di velocizzare l'intervento terapeutico. Tale programma, esteso anche all'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona, consentirà l'utilizzo della telemedicina per l'intera provincia di Salerno e per i territori della provincia di Napoli e territorialmente vicine al centro hub del presidio ospedaliero di Nocere Inferiore. Con la TeleStroke, infatti, i due hub di secondo livello assicurano consulenze neurologiche e neuroradiologiche 24 ore su 24, guidando in teleconsulto l'esecuzione della procedura in urgenza negli SPOC provinciali e procedendo alla centralizzazione tempestiva, anche traverso e l'isoccorso, dei pazienti che necessitano di trattamento endovascolare o neurochirurgico.